Salve a tutti ragazzi, eccoci qui oggi con un nuovo video, come starete immaginando da soli, siamo qui nella postazione dell'apertura ordine Allora, questo qua è un pacco... ragazzi pesa... pesa... allora ragazzi, sì, sto continuando a dire pesa così perché tipo mi sarà interrotto il video quindi ho provato a fare questo stacco in modo che non si vedeva lo stacco, cioè nel senso ho ripreso da dove stavo, vabbè Non avrete capito niente in questi 10 secondi perché tipo ho finito la memoria e quindi si è fermato il video e adesso sto riniziando da capo a metterlo a sbrigare perché sicuramente la rifinisco subito dato che ho cancellato pochi file per continuare questo video Allora, come potrete vedere adesso, purtroppo l'avevo già iniziato ad aprire però non mi ero accorto che ho smesso di fare il video Vi faccio vedere velocemente quello che avevo fatto vedere prima che c'è stava Allora, questo mazzetto di carte super spettacolari, tutte Mint on Air Mint E qui stessa cosa ragazzi, una scatola intera di carte Mint on Air Mint che andremo a vedere pochissimo nel cambio inquadratura, quindi lasciate subito un bel like e ci vediamo subito con l'inquadratura in cui le carte non le preparerò prima quindi le vedremo insieme nell'inquadratura quell'altra Quindi, like e sigla Eccoci qui con tutte le carte Sono molte carte quindi andrò molto veloce Allora, iniziamo subito con dei mazzetti a caso Allora, come potrete vedere la prima carta di ogni mazzo l'ho girata così mi ricordo che non ve l'ho fatta vedere Poi dopo averle viste, lascio la scoperta così sappiamo che il mazzo di carte ce l'abbiamo visto Allora, andrò velocissimo, se siete amanti della Wizard of the Ghost preparatevi della carta perché vi emozionerete Se invece non siete amanti della Wizard of the Ghost guardate che carte spettacolari così forse comincierete ad apprezzare Allora, questi sono tutti i set vecchissimi Vado molto veloce, e allora abbiamo Slugmad del set Neodestiny Suncorn Quasi quattro copie per ogni carta, uno spettacolo Spice Winab Sono tutte condizioni buone ragazzi, guardate il dietro Queste sono set vecchissimi quindi averle in queste condizioni è uno spettacolo Totodile Unknown L S T V Venonat, Venonat, Venonat Allora, se si ripete la carta ovviamente non la ripeto ogni volta il nome Vulpix Addestramento Spettacolo Geodude Grimer Mashop Ah no, queste sono, ragazzi, sono iniziate quelle della Allora, dopo l'addestramento sono iniziate quella della Legendary Collection Geodude Grimer Mashop Nidoran Femmina Nidoran Maschio Onyx PJ Ponyta Psyduck Spettacolare ragazzi, guardate l'artwork di Psyduck Poi andiamo con Caterpie Doduo Dratini Bulbasaur Spettacolare La Legendary Collection ovviamente è in inglese perché in italiano non esiste Abra Tentacruel Snorlax Spettacolo Sensorwish Raticate Nidorino Omastar Arcanine Dark Dragonair Tanta roba ragazzi, spettacolare Guardate senza sleeve come si vedono meglio le carte Tutte queste carte non stanno dentro la sleeve Ancora non ce l'ho messe Perché come vi avevo detto mi sono sbrigato Che mi sono sbrigato Ho tolto tutte le carte dalla carta Le carte dalla carta Anche se vi avevo detto che l'avremmo vista insieme Io ho dato una sbirciata al volo Perché tipo stavo facendo l'esportazione di tutti i file che avevo dal telefono Al computer e quindi nell'attesa Solo questa qui di carta rovinata Un voltorb Che possiamo toglierle Toglierlo Togliere Boh vabbè avete capito E siccome ho dovuto aspettare quasi più di mezz'ora Intanto mi sono visto delle carte Allora andiamo subito con questo secondo mazzetto ragazzi Che è spettacolare Allora Questo primo mazzetto erano tutte comuni e non comuni Ora andiamo con quest'altro mazzetto In cui abbiamo delle carte spettacolari Che metterò la dietro da sfondo Così arricchiranno la scena Vabbè insomma Andiamo con Invenzione del Professor Rock L'impostore Rara Neodestiny Professor Rock del set base che mi mancava Challenge Legendary Collection Dark Ampharos Olografico Spettacolare In italiano Che mettiamo subito Qua dietro Poi dopo ogni carta andrà messa nella sleeve Poi abbiamo Zapdos del set Fossil Electro del set Jungle Machamp Prima edizione Olografico Condizioni Spettacolari Molto buone Molto mint ragazzi Questo è proprio Se non è mint Poco ci manca Quindi La mettiamo subito Qua dietro E va La mettiamo là dietro Poi abbiamo Caputops Sette Fossil Ricerca computerizzata Ragazzi Rara che mi mancava Per finire Il set base Quindi Adesso mi manca solo una carta Perché Tre che mi mancavano Stanno in mezzo a queste Che ora vedrete Quell'altra non mi ricordo Qual era poi Ah ecco Ecopalestra era Quell'altra carta rara Che mi mancava Però Beh non ce ne metto là Ma che me frega Dratini Adesso siamo passati Con le Neo Destiny Execute Ghastly Trainer ragazzi Giapponese Guardate che spettacolo Questa è rara Però Del set Gym Non so se In giapponese I set sono divisi In Challenge Ingenieros Non mi ricordo Non so niente Sono ignorante Pokemon Trader Legendary Collection Plus potenza Dark Macargo Del set Neodestiny Dark Slowking Beedrill Lightladian Butterfree Butterfree Questo qua però Era un Butterfree Della Neodiscovery Questo un Butterfree Della Legendary Collection Vileplume Del set Jungle Dark Arredos Del set Neodestiny Nidoquin Jungle Prima edizione Spettacolo Lo mettiamo davanti A ricerca computerizzata Poi andiamo con Light Lanthor Neodestiny Jolteon Fossil Jolteon Jungle Jolteon Jungle Hashtag Jolteon Jungle E' uno spettacolo Magneton Legendary Raishu Fossil Honor Discovery Magnemite Discovery Skarmorai Revelation Light Machamp Destiny Golem Legendary Donphan Genesis Redactile Fossil Hitmonchan Set base Oh set base Olografica In condizioni abbastanza buone Spettacolo Poi abbiamo Hitmonlee Fossil Di cerca computerizzata Per chi ce ne stavano due Professor Rock Due due Flareon Fossil Spettacolare Insieme Perché Fossil Che era Jungle Non lo so Comunque vabbè Poi Arcanine Makargo Dark Makargo Magmar Magmar Moltres Che sti messaggi E basta un po' Moltres Legendary Moltres Fossili Fossili Va bene Non so più che sto dicendo Grow Light E poi Light Arcanine Neodestiny Che mettiamo subito Qua dietro E andiamo con Vabbè questo video L'avevo visto Arbok Dark Typholution Neodestiny Ragazzi Neodestiny È la mia Espansione preferita Spettacolare Poi abbiamo Ninthels Sette base In inglese Una delle poche In inglese Poi Giano Una delle Neodestiny X G G H H X G H H X G G Dark Makargo Light Lantur Lantur Parasect Jungle Prima edizione Pure questo Spettacolare Nido Queen Jungle Dark Typhilos Neodestiny Dark Typhilos Dark Typhilos Light Ladian Bedrill Sette base Bedrill Sette base Bedrill Stava nel set Base Non è quello Jungle Comunque Poi Dark Electrode Team Rocket Magni Mite Marip E Volter E anche Questo Mazzo È finito Però io ce lo mette Pure ragazzi Hitmon Channel Sette base Ce lo mettiamo Non ce lo mettiamo Ma che cacchio Ci frega Mettiamo E andiamo Con Questa qua A me mancava Ce la metto Pure Zaptos Vaffancina Ci metto Quello che mi pare Perché le carte Sono Vabbè Comunque Ecco quest'altro Secondo mazzetto Che sei andato Giuro che dove andare Velocissimo Ci sto mettendo Troppo Già lo so Però adesso Vado molto più veloce Allora vi faccio vedere Questo qui Che tanto Sarà velocissimo Siete pronti Non siete pronti Perché qui Abbiamo Sbagliato il mazzo Non era quello Che volevo farvi vedere Però vabbè Neodestini Allenatore Allenatore Addestramento 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 Tutti tagliando Le condizioni Spettacolari Guardate Cioè Non so se mi spiego Questa qua Del 95 2000 Cioè Guardate in che condizioni Sta Invece adesso Vai a comprare Le carte nuove Nei negozi Sono molto più rovinate E te le fanno pagare Molto di più Allora ragazzi Sto andando Super velocissimo Drowzy Eevee Execute Gastly Stiamo alla leggenda Rie Quante copie Da Gastly Poi Geodude Poi qui Stanno al contrario Non so Butterfree Jungle Prima edizione Spettacolo Mettiamo subito Qua dietro Anche se adesso Cascherà Quindi lo metto Qua dietro E andiamo con Ratini Neodestiny Light Machamp Neodestiny Due light Machamp Spettacolo Poi Gastly Neodestiny Girafarig Glygar Glygar Growlite Hitmonchan Samurai Neodestiny Larvitar Ladyba Lightson Flora Attenzione Attenzione ragazzi Qui sono troppe Troppe carte Poi andiamo con Machamp Mantine Marip Fanfare Pineco Porygon Psyduck Remoride Seal E basta E basta Anche questo Anche questo L'abbiamo visto Anzi no Questo qua Era diviso In due Perché Mezzo Qui E mezzo Qua No Giusto L'altro Mezzo Scherzavo Era tutto Intero Anche questo L'abbiamo visto Andiamo con Un altro Mazzetto Piccolo E andiamo con Attenzione Allora Electabuds Neogenesis Poi andiamo con Le Ah sempre Neogenesis Totodile Suncron Syndacrile Magmar Cadabra Spettacolo del 7 base Questo sta mischiato così Insieme pure questo 7 base Abra Poi abbiamo Jinx Shuggle Neodestiny Che non è Neodestiny Ma è Neogenesis Piloswins Spinarax Snubbull Stuntress Vina Bub Latte Mumu Bacca Miracolosa Novo Pagdrex Da più a parlare Noctow Marip Corsola Queste stanno al contrario Non so perché Abbiamo Pozione Pozione Mystery Fossil Bill Trainer Trainer Challenge Widow Bullpix Tentacus Squirtle Spearov Slowpoke Seal Sentry Ryan Rattata Psyduck Goldducks Magikarp Psydra Pikachu Spettacolare E Psyduck Anche questo mazzetto L'abbiamo visto Sto cercando di andare Il più veloce possibile Anche se Novo sia impossibile Perché Più veloce di così Non si può E andiamo con quest'altro Mazzetto Mi devo sbrigare Allora abbiamo Fossil Addestramento Cloyster Graveler Kingler Omastar Sand Slash Sidra Ecans Giaudud Grimer Orsi Gravy Omanite Psyduck Shield Shard Slowpoke Tentacol Zubat Addestramento Arbok Gastly Golduck Graveler Kingler Omastar Sand Slash Sidra Tentacru Ecans Ecans Giaudud Grimer Orsi Kabuto Crabby Omanite Psyduck Sheldr Slowpoke Stentacru Tentacru Tentacru Zubat Mister Figgio Mister Figgio Gioco da Zerlo Gioco da Zerlo Fossilio misterioso Ok Anche questo mazzetto L'abbiamo Ragazzi Più veloce di così Non si può Cioè Sembra che stanno A velocità per due Comunque Andiamo con quest'altro mazzetto Questo qua Volevo lo dire prima Vabbè Andiamo con Attenzione Questo mazzetto è spettacolare Perché ce l'ho solo io Non scherzo ragazzi Ce ne sono anche altri Però Carte Energia Del set Base In italiano Condizioni Guardate le condizioni Spettacolari Allora Un po' di energia 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 Tutte l'energia Del set E base Guardate il spettacolo One to free One to free Non vi dico il nome Perché tanto È un livello Dico Però guardate Quante sono Abbiamo anche Questi due Energia Fuoco E Energia Lotta Questa qui Per finire Della Neogenesis Non so perché Neogenesis 95 2001 E queste qui Erano tutte Carte Energia Del set E base Guardate il spettacolo Qui potrei fare Tutti i mazzetti Tutte condizioni Minta a parte Le ultime 20 30 carte Perché le hanno Po' rovinate Però Non ci posso Fa niente Andiamo con un altro Mazzetto subito Velocemente Con questo qua Sto facendo a caso I mazzetti Allora Qui ci sono Delle carte Rovinate Però queste carte Non sono di questi Sette Perché ci stanno 11 carte Di altri Sette Non so perché Allora Andiamo con Sette fossil Magmar Così abbiamo cambiato Subito Con Genx Lanturn Octillery Seeking Stunt Non Non I Beh Mi sono perso Il conto Qua Il Fincheremo The Scenic Scenic Snubble Starius Vina Ok Anche queste Abbiamo viste Però C'è stava Un altro Mazzetto Che non sapevo Ci fosse Queste qui Ti ho L'aggiunte Così Random Ora ve le faccio Vedere Se riesco a Prenderle Abbiamo Del pacchetto Ex Olon Phantoms Fantasmi Di Olon Un po' Rovinate Nuspas Raishu Rara Questa qui Neogenesi Non so perché Sta qui Mischiata Poi Chanchao Olografico Chameko Rara Vibrava Rara Gavlade Energia Del team Rocket Uncommon E poi Questa energia Reverse Spettacolare Di Ex Olon Phantoms Spettacolare Rimano Spettacolare Questa carta E poi mi mancava Pure quindi Molto bene E la mettiamo Subito Qua sopra Anzi Sarebbe da mettere La dietro Tra sfondo La mettiamo Qua Tanto cascherà Lo so Facciamo così Spettacolo E andiamo con Quest'altro Mazzetto Che dovrò Dividere in due Parti Perché tutte Non ci entrano Allora Andiamo con Attenzione Ce la faccio Tutto intero E abbiamo Dark Croconav Ragazzi Sono troppe carte Non ce la faccio Ci ho provato Ma non ce riesco E andiamo con Dark Croconav Exeggutor Dark Fluffy Dark Forestress Dark Hunter Dark Omanite Dark Pupitar Dark Quilava Dark Wiglithaf Iacross Hitmon Lee Houndor Jigglypuff Light Yugong E poi Queste stanno al contrario Non so perché Magmar del 7 Ah ecco perché Questi sono Neodestini E poi abbiamo Il 7 base Un'altra volta Magmar Vulpix Bulbasaur Eivisaur Ragazzi Spettacolo Poi andiamo Hunter Kabuto Gold Duck Questo è Fossil Mischiate così Gastry War Tortor Il 7 base Spettacolo Io ce l'avevo rovinato Squirtle Vulpix Jigglypuff Charmeleon Sia in italiano Che in inglese Guardate come cambia Il colore della carta Poi abbiamo Charmander Growlite Tratini Magikarp Kabuto Che non era Kabuto Ma era Kaguna E Machok Questa è la prima Mezza parte Di questo mazzo Che stavamo vedendo Abbiamo Abra Bulbasauro Un'altra Bulbasauro Spettacolare Doduo Gastry Koffing Machop Onix Pikachu Ragazzi Scusate se non stavo Messo a fuoco Abbiamo Pikachu 7 base 1 2 3 3 Pikachu Del 7 base E tanta roba Polivag Ponita Arattata Sensu Staryu Tangela Volta Vulpix Kabuto Perché dico sempre Kabuto Quando c'è Kagura Non capisco Poi andiamo con Nitron Altro Pikachu Stiamo davanti Polivag Ponita Rapida Starmi Staryu Tangela Volta Vulpix Zubat Addestramenta 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 Ragazzi Pikachu 7 base Subito Qua davanti E ce ne abbiamo 1 E 2 E 3 E 4 Poi se ce ne stanno pure altri in giro Però non ne vado a stare a cercare Perché Attenzione ragazzi È rimasta una carta sola Ah no Quella è cascata prima E rimettiamola qua Butterfly Prima edizione Set Jungle Solo due mazzi rimasti Allora andiamo con questo qua Che facciamo prima E abbiamo Attenzione Kakuna Neo Discovery Poi Metapod Omastar Polivir Pupitar Cider Anon D F N U Xatu Caterpie Dunsper Sopi Caputo Larvitar Nato Omonite Pineco Polivog Sentra Spinarak Tire 7 Aro Anon E T O Widol Wuper Addestramento Addestramento Metapod Wubitar Anon U Caterpie Dunsper Dunsper Marip Marip Natu Pineco Spinarak Tyrog Anon I No questo che è? Sì Anon I Widol Addestramento Sempre Addestramento 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 Questo qua Addestramento Del 7 base Ventata Mi mancava per finire Il 7 base Lo mettiamo La No Cascato Dark Diflution Anche Oh non facciamo scherzi No si regge Ok andiamo con Addestramento 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 Metti a fuoco Charmillion Del 7 e 2 Ragazzi L'unica carta del 7 e 2 Penso Quindi questa la mettiamo Qua Poi andiamo con Neodestiny Censi Dark Dragonal Trainer Perché adesso siamo passati Le Legendary Non lo so Comunque andiamo con Trainer Dark Dragonal Tutte mischiate qui Questa 7 base Legendary Pikachu Legendary Spettacolo Lo mettiamo davanti P.J. Nidoran Grammar Exitus Slendish Nidoran Kabuto Growlite Dotrio Firov Dratini Machop Squirtle Dark Adabra Spettacolo Dark Raticate Diglett Monkey Dark Raticate Censi Adesso siamo passati Al new Destiny Una altra volta Marip Dark Fluffy Marip Dratini 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 Energia Set Base Charmander Team Rocket E altre carte Addestramento Mifchiate Allora Io sto andando velocissimo ragazzi Questo è Guinness World Record Per il video più Con più carte Più veloce del mondo Allora andiamo con Questo qua lo devo vedere In due parti Perché se no Tutte Non ce la faccio E andiamo con Veronat Jungle Pokeball Pokeball Butterfree Jigglypuff Dodrio Gloom Spearow Addestramento Dodrio Executor Cacchio se questa era Della leggenda Mi mancava però Vabbè Fear of Gloom Liquidum Marovac Parasect Persian Prime Rapidash Seeking Taurus Weeping Bellsprout Cubone Eevee Execute Golden Jigglypuff Jigglypuff Monkey 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 Miao Nidora Odish Che faccio più Paras Pikachu Spettacolo Pikachu Pikachu Pika Quanti Pikachu So 5 Pikachu Del set Jungle Spettacolare Li mettiamo subito Qua sopra Questo della leggenda Che è lo stesso Artwork Andiamo con Rion Spearow Veronat E Pokeball Allora Questo era il secondo La seconda parte Dell'ultimo mazzo Che stiamo vedendo Andiamo con Eccola qui La prima metà Che era l'ultima Però vabbè Non abbiamo capito Sta registrando bene Abbiamo Light Dugong Neo Destiny Light Flareon Tutte condizioni Ragazzi Guardate un po' Spettacolo Cioè Non so se mi spiego Guardate le condizioni Moltissimo Buone Moltissimo Light Goldack Light Jolton Prendete ormai C'ho 4 coppie Per ogni carta Light Machok Light Nine Tools Light Slowbro Light Vaporeon Oh Mi sentono tutti Light Venomoth Wigglypuff 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 Sider Togepi Anon 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 Q Anon Z Syndacul Poi abbiamo Dark Artillery Ah Attenzione ragazzi Qua ci sono alcune Prima edizione Quindi adesso Posiamo questo mazzo E andiamo con Marowak Set Jungle Prima edizione In italiano Rion Condizioni ragazzi Guardate Molto buone Poi Oddish Jigglypuff Ligidung Rapidash Primus Viking Fear of Magmar Pikachu Pikachu Spettacolo Pikachu prima edizione Subito qua Execute Paras Bellsprock Cubon Monkey Golden Executor Eevee Meow Nidoran Persian Raidon Raidon Tauros E Whippingber Allora Finalmente abbiamo finito ragazzi Allora Mischiamo su tutto Non ci prega niente Allora Per questo video è tutto Sono andato velocissimo Però è durato tanto il video Mi dispiace però Più veloce di così Non potevo Sembra che stavo a velocità per due Quindi sono andato molto bene Allora Spero il video vi sia piaciuto Ragazzi lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Se ancora non siete iscritti Perché ci sono tantissimi Altri video spettacolari Adesso andremo pesantemente Con molti spacchettamenti Perché stanno uscendo Le nuove collezioni E quindi niente Spero il video vi sia piaciuto Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Se ancora non siete iscritti E al prossimo video Saluti da Pikachu Jungle Pikachu Jungle Prima edizione Pikachu set base Guardate che spettacolo Cioè chi è che Chi è che vi ha mai portato Un video Con tre Pikachu Uno set base Uno jungle E uno jungle Prima edizione In queste condizioni Cioè chi ve l'ha mai portato Nessuno Più un'energia del set base Cioè Guardate Non lo so io Vabbè Al prossimo video Like, subscribe, share E tutto quello che volete Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti